Leo, come stai? un po' meglio? c'è un po' davanti del ristorante io l'anno d'Arcano ho portato ho mangiato a tavola e mangi qua la faccio io, non ti preoccupa oh, c'ho pure una buona notizia ho incontrato la madre di qua amica è stata che siamo andati alla festa l'altra sera, ricordi? ho messo un po' a parlare così mi ha riconosciuto subito vabbè del più e del meno e ha scoperto che c'è Armorbillo e gli amici su ha vabbè ci hanno avuto tutti i compagni su Armorbillo ma adesso se può venire qua per stare con te per piazza Armorbillo come vedi? oh, guarda che ho visto, ma guardi io so che ti piace questa è una botta di culo capita una volta nella vita la facciamo venire qua come stai a sentire? eh, che stronzo come sei rischiavi pure a vederla più la facciamo venire? eh? sì o no? dai, che resta un altro minuto o meno adesso sono stanco o morto la facciamo venire? dà un altro minuto dà un altro minuto poi va dai grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti